Sarà il primo esperimento in Italia di democrazia deliberativa. L'incontro del pomeriggio di sabato prossimo, 23 gennaio, nella sede della Camera di Commercio di Chieti, ha il carattere dell'unicità e punta a ricucire la distanza tra centro e periferia della città. Tema del sondaggio, la sicurezza e la percezione che ne hanno i cittadini. Obiettivo dell'esperimento che vedrà in campo per la parte scientifica all'Università d'Annunzio di Chieti e per quella politica all'amministrazione comunale, arrivare a formulare delle proposte sul tema della sicurezza. Il tutto attraverso la formazione di un'opinione informata e consapevole, agevolata dall'intervento di alcuni mediatori, docenti dell'università, un giornalista e le forze dell'ordine. E quindi il nostro compito, soprattutto dal punto di vista scientifico, è quello di informare i cittadini il più possibile imparzialmente, a livello neutrale, affinché loro si formino un'opinione per poter dire la loro. Il meccanismo è quello di un dibattito e prima e dopo il dibattito di una somministrazione di un questionario. Sì, attraverso il questionario si rileva l'opinione dei cittadini che poi può cambiare dopo l'informazione e la discussione per arrivare poi a delle proposte condivise, ampiamente condivise. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha intenzione di proporre a Lanci questa pratica, per la verità già usata nel Nord America e in Danimarca, per decidere ad esempio l'ingresso nell'euro. Per il primo cittadino però non si tratta di delegare la responsabilità della decisione politica ai cittadini piuttosto di ascoltarne l'opinione, che non viene dalla pancia come nei sondaggi demoscopici tradizionali, ma dalla testa perché frutto di un dibattito e di una informazione corretta. Assumere le decisioni più giuste per i cittadini, questo sì può essere agevolato dall'ascoltarli, dal sentirli. La sicurezza è uno degli elementi oggi più sensibili per l'opinione pubblica, spesso la percezione maggiore dello stato reale o minore di sicurezza. Quello che vorremmo tentare di fare con questo esperimento è quello di capire bene che cosa hanno per davvero i cittadini in mente parlando di sicurezza e quindi adottare provvedimenti amministrativi che seguano non la pancia dei cittadini ma il sentimento vero dei cittadini rispetto a quel problema.